Ciao ragazzi, benvenuti in questo video, così a caso, dopo il video di Zoe ha perso la pallina, eppure Mola ha persa, Zoe, annaggia, e vi voglio ringraziare i 150 video, siamo arrivati a 150, si ragazzi, 150, 150 video in cui, in cui non lo so. Comunque, i 150 video in cui è nato Winmat, per il tempo Zoe sta odorando il pavimento, è pulito Zoe, non ti mangiare la tenda, non te la mangiare, comunque ragazzi, volevo ringraziare, e vabbè ragazzi, da Zoe che si mangia la tenda, mannaggia, da Zoe che si mangia la tenda, e io, Angel, e tutto, e da Fox che sta sulle montagne, ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao.